Marco Mondini, ricercatore ISIG. La guerra ha sempre avuto uno status particolare nella storia e nella cultura europea. La guerra fonda gli stati, fonda le nazioni. La guerra è l'occasione per il vero uomo, ovviamente il maschio, di dimostrare le proprie virtù guerriere. Ma è nella contemporaneità europea, tra XIX e XX secolo, che la guerra raggiunge una sua posizione particolare nell'immaginario. La guerra, dicono gli storici, è una guerra totale. Vuol dire che mobilita tutta la società, ogni individuo che sia combattente o non combattente. Ma, in effetti, dopo il 1945 molti storici sono convinti che la guerra cessi di avere quella posizione centrale nell'orizzonte dell'immaginario, dei sogni e dei turbamenti degli europei che aveva sempre avuto. Siamo proprio sicuri che sia così? Certo, dopo il 1945 l'Europa è un continente distrutto. Dalle macerie delle città emergono superstiti, prigionieri, veterani delusi. Gli eredi di partiti politici che sulla guerra avevano scommesso tutto riconvertono i loro messaggi e cominciano a parlare di un'Europa senza più guerre, di un'Europa in cui la pace diventi l'idea predominante. Alcuni storici sono convinti che questo si chiami transizione all'età post-eroica. Io sono convinto che questo non sia vero, che la guerra giochi un ruolo centrale nella produzione culturale e nell'immaginario degli europei fino almeno agli anni Sessanta.